clonate teo mammucari e che nessuno si azzardi a farlo uscire da ballando con le stelle 2023 prima della fine dello show a parte il fatto che balla mica male e poi sa fare ciò che dovrebbe saper fare chi finisce in quel dannato piccolo schermo cioè televisione alberto matano ha ragione quando dice che mammucari ha destrutturato la trasmissione in quanto il comico romano è in grado di calarsi in una serie di ruoli alla velocità della luce senza seguire un copione se non quello dell'improvvisazione così capita che ora è ballerino ora è conduttore ora è giurato ora vox populi in studio il pubblico gli tributa una standing ovation e poi si ammazza dalle risate l'unica che non ride è selvaggia lucarelli che è pure scivolata rendendosi protagonista di una caduta di stile evitabile mammucari nella seconda puntata di ballando ha ballato sulle note di prisenkolinensina in chiusol di adriano celentano finita la performance eccolo innanzi alla giuria a guidare i dialoghi non sono coloro che alzano le palette bensì lo stesso teo animale da palco pure la carlucci viene travolta dall'esuberanza del romano che le sussurra che l'ha beccata a sbagliare due congiuntivi con mariotto è una gag perenne il venezuelano gongola gli piace stare al gioco e farsi prendere un po in giro che bello non essere per malosi con selvaggia lucarelli invece va in scena uno scontro muscolare la giurata rivendica più non posso che lei valuta e deve avere il tempo di parlare senza essere interrotta mammucari le toglie il respiro come a dire la parola cioè la scena e questo per la lucarelli è un affronto non digeribile teo non vuole concedersi alle analisi affilate della giurata è una guerra di logoramento che stravince mammucari che sfrutta pure il pubblico in studio tutto dalla sua parte facendolo urlare a suo piacimento con un'alzata di mano la lucarelli un po tiene botta ma mammucari è travolgente la carlucci sghignazza tutti gli altri giurati pure l'unica a non ridacchiarsela è appunto selvaggia viene da dire per fortuna perché così si crea lo scontro oro colato per la tv tutto sarebbe perfetto eppure tutto sommato leale se non fosse per il brutto scivolone sul finale della giurata che da mammucari zero un voto che sa di rosicata oltre a essere immeritato per quel che si è visto in pista una sorta di punizione in quanto il comico si è preso la scena che caduta di stile